Parla tifoso dell'Azzurra! Abbiamo alcune belle notizie da condividere con voi. Il centrocampista Tanguin Dombele ha rilasciato un'intervista ai colleghi francesi di Sofut e ha parlato del suo presente in azzurro, ma anche del futuro. Controlliamo, prima di tutto, non dimenticare di lasciare il tuo mi piace e di attivare le notifiche per ricevere tutte le notizie dal nostro canale Napoli News nella sua intervista. Dombele ha parlato del futuro e ha detto che non sa quale sarà il suo destino, ma che molti tifosi del Tottenham lo rivolgono. Ha però chiarito che sono il club a decidere e che il Napoli ha l'opzione di acquisto. Ha anche parlato della sua partenza dagli Spurs e ha detto che non c'era altra soluzione. Ma che è felice di aver scelto il Napoli. A proposito dell'etichetta di Apatico, il giocatore ha detto che ha sempre avuto quel segno, ma che lavora costantemente per migliorare. E tu, tifoso del Napoli, cosa ne pensi della possibilità che Dombele resti al club? Lascia nei commenti la tua opinione sul futuro del giocatore e su come vedi il suo ruolo in squadra. Questa la cronaca delle dichiarazioni del centrocampista Tanguy Ndombele sul suo futuro al Napoli. Resta sintonizzato sul nostro canale per altre notizie dalla tua squadra del cuore, con la possibile permanenza di Ndombele al Napoli. Come pensi che possa contribuire ulteriormente al successo della squadra? Forza Napoli sempre!